ben trovati da nicos che ho detto un aggiornamento con le previsioni di trebi meteo giovedì anticiclone ancora un po i box sulle nostre regioni per le correnti umide che dall'isola i britanni che investiranno tutta l'europa centro orientale ma diciamo che l'alta pressione man mano poi cercherà di riprendersi nel fine settimana con più sole stabilità e temperature in lieve aumento andiamo a vedere la mappa delle precipitazioni a scala europea perché attenzione ancora qualche fenomeno è atteso su alcune zone soprattutto la dorsale appenninica alpi e prealpi guardate come sempre durante il poveriggio si formerà qualche occasionale fenomeno in parziale estensione al nord est andiamo quindi in sintesi con la mappa dell'italia una giornata sempre un po variabile con questi temporali questa volta concentrati un po più sulle venezie poi anche l'appennino centro settentrionale marginalmente potrebbero avvicinarsi al limite zone costiere del medio adriatico temperature che come possiamo osservare nel riquadro difficilmente sulla nostra penisola andranno oltre 29 32 gradi nessuna ondata di caldo africano all'orizzonte dettagli approfondimenti scaricando l'app di trevi meteo